CHECK! Benvenuti in questo nuovo video. Noi siamo oggi al CSP. E oggi sarà un video bellissimo. Bellissimo. Il corpo dovrebbe stare in posa. Oggi. Bello a disegnare. Chi disegnava io vince. Braga. Buona visione. Ok. C'è anche Bea. Ma tanto loro hanno la loro. E Bea è la giudice. Ok. Bea prende l'oggetto. Pure io voglio questa cosa. Facciamo tipo 30 secondi per disegnarla. No. 30. Ok. Questo è l'oggetto. Ma no. In 30 secondi. Dai 2 1 vai. Ma io non so disegnare. Ma anche io. Allora ragazzi dovete capire che io non so disegnare. Emma sta disegnando. Ma smettila. Ma sono cosa sto facendo. 10 secondi. Ma no. Non puoi più. No no dai. Facciamo un minuto. Ma perché. No no no. Va bene 30. No io ho un piccolo problema. E guarda io come lo so fare. 20. Ma siamo un minuto. Ma io ho già finito. Raga ma ci devo pure delle. Tu vuoi perdere. Ah io sono un minuto. Ma io so anche le campane. Le campane. Stop. Vai. Facciamo un minuto. Facciamo un minuto. Guarda. È identico. Guarda. 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 Guarda di Martina. Il mio. Bellissimo. Mi sembra un peluche. Ecco la diretta. Ecco. Ma in 30 secondi. No. In 30 secondi. Così si vede. Ok. Dog si. Dog si. Ah. Le posso vedermi? Secondo me è giusto. No. Che carina. Grazie. Il mio non vuoi farlo. Io sono. Allora. Ancora. Ma se lo mettiamo. Questo è troppo difficile. Secondo me è 40 secondi. Secondo me è 50. 50. 50. Un minuto. Però io non lo vedo sto cosa. Ecco. No. Prima facciamo la video degli spectators. Ok. Ma cosa è qua? Aspettate. Aspettate un attimo. Io non sono tronda. Dicemi 10. 3. 2. 1. Via. Raga già l'ho iniziato male io. Io ho fatto la testa sbagliata. Io lo sto facendo bene. Ragazzi. Ragazzi. Raga. Io non so disegnare. Ho fatto un picco. Orredo. Siete a 20 secondi. Ma com'è possibile? No. Ma io ho già finito. Raga. Guardate che vedo il mio. Siete a 30 secondi. Ma che è? Ma io ho finito. Raga. Martina. Ma com'è possibile? A quanto siamo? Non so che aggiungere. Non ho fatto per fare. Siamo a 40 secondi. Io faccio anche le ciglia perché è femmina. Ma perché ha la bocca così giù? Ma te lo direi sì. Ma è bellissimo. Ma non è vero. Ma non lo vedi? Cioè. Bello. Mi piace. Ta-da. Vi facciamo da quel pennello? Pennello. Vediamo. E' zia. Ma no. Ma raga. E' zia. Ma quanto cacchio le fate grandi? Un limbo. Un limbo. E' bebbene. Allora. Ma c'è. Ma c'è. Non hai fatto il pesci che ha sul piede? Io l'ho fatto. Oddio. Non è vero. Sembra Patrick. Buono. Ben guè. Come si è? Da. Scrivi. No. Vabbè. Ti ha vinto. Allora. Patrick. È prima. Ma è il mio. Patrick. È il mio. Io non gli ho fatto lì. Emma. È il mio. È il mio. Dai ora ti dobbiamo. È il tuo il primo al contrario. Scusa. Io non gioco più a questo. Dai Martina. Dai. Ma stai a mettere la mia tazza di prima. Ok. Sono già pronta. L'ho preso. È un po' difficile. No. Troppo. L'oglio masco. Oh. Si va avanti. Si va avanti. Quello a due o tre. Un po' si mette ancora a soltare. Sempre un minuto. Ti faccio pure i trapposti. Va bene. No. Mi ho gnovo. È troppo difficile. No. No. Tu aspetta. Sto aspettando. Già. Non è giusto. Ma non è giusto. Sto parlando la Martina. Aspetta che stai ascoltando la Martina. Ti ricordi che ti avevo incollato. Vabbè. Un minuto o mezzo. No. Ma Emma però dopo tagliato. Ti ricordi che ti avevo. Eh. Non è giusto. Non è giusto. Quando hai incollato il piede a Mambo Natale. Ah sì. Perché sei la nostra. 3, 2, 1. Io mi sto impegnando ora. Non lo giuro. Riuscire a chiudere la porta? No ma che bella corona che ho fatta. A te? Io l'ho fatta una bellissima. Beh. Elfo ho visto che ha le cose a sventola. Ve le faccio a puntire. Perché non parlate voi mentre... Perché io lo sto facendo benissimo. Ti giuro che ti sono impegnato. 30 secondi. Eh. Sono passati. Ah. Ma quanto manca? Avete meno e mezzo? Io ho fatto un braccio cicciolo e uno anoressico. Perché non riesco? A chi lo dice? Non capisco come hai fatto. Eh? Come hai fatto il tipo? Il tipo? Ma hai piedi storti sto porco? Io ero impegnata all'inizio e ora non mi sto più impegnata. No ma guarda che bellissima. No stai scherzando? Vota me. Vota me. Vota me. A me non mi ci stanno le gambe erano quindi vi attaccheremo. Vota me. Un secondo. Centro. Cos'è il regalo? Ma cosa c'è? Ma perché metrà? Ma che fai messo? Il mio messaggio. Sai ma il mio è meraviglioso. Il mio è orrendo. Il mio è orrendo. Ma che bello che ha il suo. Grazie. Eh ma il suo è bellissimo. Ma lo vedi? Ma veramente questa si lamenti. Ma perché lei è zia. Non è giusto disegnare con lei. Eh. Però devi tenere in conto anche il mio. Oh anche il mio. Ma lei è marzzi. Ma lei piace di più quello di Martina? Guarda che... Anche a me le cifre. Oh io. Ma io ho fatto un punto. Sì. Ho fatto un punto. Vedi? Quindi siamo uno. Grande Martina. Sì. Ma no no. Sì. Si sei uno pari. Ah tra l'altro pari. Ma puoi fare. Ma il tanto non si bisogna dire. Ok. Qualcosa che è di facile. Io potrei... Dai. È più semplice. Oh no. Va bene. Però questo non mi nudi. Ma fammi dire. Mi è capito? No. Però la prima città è più nell'inquadratura. Però devi tenere in conto anche il mio. In che senso? Allora davanti. Cioè. Quanto faccio? Due minuti? Sì. Che nove. Scherzo. Sono un po' lentissima. Mi dispiace. Oddio. Ma c'è. Non lo faccio per l'interno. Pronte? Via. È da canosa. No. È da canosa. Che chi te lo fa nella stessa scala numerica. È infatti per me. Mentre tu perché era più proporzionato di sacrarlo. Mi sto tagliando un orecchio perché non c'è. C'è un pezzo. Che non puoi fare le orecchie. No. Te la vogliamo anche prima. Belle le orecchie. Ma non è male. 30 secondi. Ma il suo punto. Non vale giocare con te. Ma come fa a essere... Ma non manca un pezzo. Eh ma guarda questo. Non vale giocare con te. Non sai che... Ma raga. Ma che ha spire il tuo? Ha spire. Facciamo U6. No. Voglio dargli un nome. U6. No. Voglio dargli un nome. No. Non ha più senso il nome. Da poi io metto. U6. Vabbè. Le faccio vedere lo schifo che ho fatto. Stesso. Vai. Dai. Hai vinto Emma. No. Deve vincere... No. Decido io che vinto. La stile. Scusate. Quello più originale. Ha vinto la Lety. È più originale di tutti. Scusate. L'ho fatto anche lo scarabino. Dai. Scusami. Tatuaggi. Settite. Guardate questo. No. Non lo voglio vedere. No. Ma che babba è più bello di tutti. Ti vergogna affatto. Ma non lo so che è bello. Però... Ok. Ho vinto Emma. Ma poi il tutto va a Martina per l'origine. Cioè. Ma non mi tengo. No. Non mi piace messo. Non mi è conosciuto bene questo. Ti levi. Va bene. Adesso tocca a Martina. Ah sì a Martina. Ciao. A Coppa. No. A Martina vinto. Facciamo un altro. visto che... E' l'ultimo. C'è uno pari. Lei è davanti alla telecamera. Allora è davanti alla telecamera. Però noi lo vediamo. Dobbiamo fargli... Aspetta. Dobbiamo fargli ritratto. Via. Via. Ma io non lo vedo. No. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qua. Un attimo che non mi ricordo come erano le zampe da sdraiate. Ciao. Ma perché tu lo stai facendo sdraiate? Io solo la faccio. Ma so che bello. Ma Martina ma ce la fai? Guarda le sproporzionalità. Mi morto. Ma perché tu non ti impegni Marti? Gatto. Girei la fai. Un extraterrestre. Però il corpo è come il male. Ma guarda quanto si può fare. Vai lanci a vedere il mio. Guarda ho scritto Ima King e ho fatto la corona. No. Io mi sono rotta. Basta. Abbiamo finito Martina. No io lo sto curando. Bello. No però è la giusta rappresentazione del gatto. È quello che vuole di Martina guarda. No però veramente. Adesso è un po' grande. Il tuo gatto ha la testa piccola. Vai ovviamente. Ma va che coca con me scusatemi. Coca è a me. Cioè abbiamo messo un mezzo. Ma io gli ho fatto anche i denti va. Non provo. Però vado a dirmi che non ho vinto veramente. No. Guardate che bello. Oddio fa sempre orribile. Mi giuro che dalle errori che non rendi. Guarda i denti guarda i denti. Ma ti guardi? Ma ti guardi solo. Vabbè io lo faccio ora. Vabbè io lo faccio ora. Andate. Vuoi vedere come disinare? Guarda i denti. Guarda i capelli come li facciamo. Ti ricordi di quella volta? E la mia piace dice questa. Ti piace? Stiamo facendo i retratti. Cioè stiamo portando le pelle. Ah beh come facciamo i capelli. Ah ti faccio riccia? Riccia è così. Martina. Sto disegnando bene le tabbe. Vedete voglio vedere. No non è vero. È un alien. No Martina fai la film. No. Ah. La Martina. La postera. Ora faccio il ritratto a Martina. È la macchinetta? Sì. Che cosa erano? La parezza. Sì però tu amo. Sei il senso in mero proprio. Guardami. Ti faccio con le mani da. Ma se non hai? Viene la rotonda. Ma è bea. Speriamo che se vi sia riuscito a essere. Se non lo avete ancora fatto. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al canale. Iscrivetevi al like. E attivate la campanellina per vedere tutti i nostri nuovi video. Vi saluto anche la tizia. Adios. Adios. Adios.